ciao a tutti allora preparazione terza cipressa race in programma domenica 8 marzo partenza 9 30 su quattro giri siamo qua col team organizzatori di cui io faccio parte preparazione del percorso fettucce e ostacoli tutto perfetto tutto levigato quindi una gara un percorso aperto a tutti e vi aspettiamo numerosi invitiamo tutte le ragazze amante dell amanti della mountain bike a partecipare a questa gara che è una gara bellissima secondo me il percorso è fantastico e vi aspettiamo numerosi e numerose il pubblico il pubblico può andare a vederlo giù dalla torre la partenza poi su tutto il tracciato ci sono anche vari pezzi dove ci sono dei salti abbiamo preparato degli appoggi spettacolari su tutto il circuito speriamo che il tempo il tempo sia come oggi così almeno ci divertiamo tutti a domenica 8 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti